Ciao ragazzi, siamo scomparsi da un po' e stavo appunto preparando un video per spiegarvi che fine abbiamo fatto in questi mesi e quello che abbiamo intenzione di fare nei prossimi mesi sul nostro canale YouTube e sul nostro sito internet dedicato al Giappone. Ma oggi vi trovo qua a pubblicare questo video in risposta a quello che sta succedendo in questi paio di giorni e a rendervi partecipi sulle mie considerazioni sui turisti e il loro comportamento in Giappone. Ok, ma ricominciamo dall'inizio, ossia, ieri ho ricevuto un paio di commenti sul mio video di Aokigara riferendomi che un YouTuber americano aveva visitato la foresta dei suicidi e ci ha trovato un cadavere reagendo in modo non consono alla situazione. Mi sento di parlarne non solo perché il Giappone rappresenta una delle mie più grandi passioni per cui ho creato un canale YouTube e ho anche un sito internet dedicato a chi vuole visitare questo splendido paese ma in primis perché io da Aokigara ci sono stato e mi sento di esprimere il mio parere riguardo. Il video di Logan Paul è un chiaro esempio di tutti i comportamenti che io non ho mai sopportato e che secondo il mio parere non debbano essere svolti in nessun luogo, a maggior ragione in Giappone ed ancora di più in un luogo così particolare come Aokigara. Come ben sapete tempo fa ho fatto un video su questa splendida foresta ai piedi del Monte Fuji nella prefettura di Yamanashi. È uno di quei posti che mi ha sempre affascinato per la sua location e per la sua atmosfera mistica più che per la sua infausta fama della foresta dei suicidi. Proprio per questo motivo preferisco chiamarla con il suo nome, ossia Aokigara piuttosto che foresta dei suicidi che pone l'accento semplicemente sul suo aspetto più drammatico. Non nascondiamoci di un dito, chiunque voglia avvicinarsi alla foresta di Aokigara, compreso me, lo conosce proprio per questo aspetto, per la sua fama oscura, ma secondo me bisognerebbe spingersi un po' più in là per conoscere quello che in realtà è. Innanzitutto perché se si avesse voglia di scavare un po' nella storia della foresta si scoprirebbe che fa parte del patrimonio dell'umanità insieme al Monte Fuji e che si trova a limitare del comprensorio dei Cinque Laghi che dà la sua vicinanza al Fujisan presenta una delle più grandi metaturgistiche per i giapponesi. La scarsa foresta è un luogo fondamentale da preservare dal punto di vista naturalistico grazie alla sua lussureggiante vegetazione e fa una tipica del luogo infatti ci si possono trovare gli orsi, dei cervi, dei conigli tantissimi animali particolari e tipici del Giappone. Infatti Aokigara significa letteralmente la foresta verde che è anche conosciuta come Jukai, ossia come mare di alberi. Da quanto è fitta? Ok, dopo aver letto i commenti sono riuscito a vedere il video integrale di questo youtuber prima che venisse tirato via in poche ore dallo schesso youtuber. Incomincio col dire che già l'intento originale dello youtuber era già sbagliato in partenza ossia voler campeggiare all'interno della foresta di Aokigara e questo non è consentito, non si può fare. Prima di tutto è patrimonio dell'umanità e non ci si può campeggiare liberamente. E come seconda cosa, nei laghi dei microfi esistono tantissimi camping attrezzati proprio per questo motivo per accogliere i turisti che vogliono visitare il comprensorio dei 5 laghi. Per chiunque abbia visto il video, c'è che dire che noi quella volta abbiamo visitato appunto la zona di Kawaguchi, che abbiamo fatto due laghi a piedi per una distanza di 22-25 km totalmente a piedi, nonostante il tempo non fosse dei migliori e fosse disponibile anche un servizio navetta. La cosa divertente del nostro viaggio all'epoca era stata che avevamo preso una stanza in un albergo in stile tradizionale con l'onsen direttamente sul nostro balcone in modo da poter vedere il Monte Fuji mentre facevi il bagno. Però il tempo era tanto brutto, tanto coperto dalle nuvole basse che non siamo mai riusciti a vedere il Monte Fuji. Ma il viaggio a Kawaguchi, come nel presso del Monte Fuji, è stato per me uno dei viaggi più belli e immersivi nella natura giapponese che abbia mai fatto nella mia vita, così distante dal caos frenetico delle micropoli come Tokyo, Kyoto, Chiba, Nakano, insomma, è veramente stata un'esperienza unica nel suo genere che consiglio a tantissimi altri, però con tante limitazioni. Il concetto è che se si vuole andare a visitare una zona come Aokigara, lo si deve fare con il rispetto ed educazione che si deve ad un paese diverso dal tuo, e specialmente in un luogo così particolare come questa foresta. All'interno di Aokigara esistono tantissimi sentieri che vi permettono di attraversarla in complessa sicurezza, così da non potervi assolutamente perdervi, finché risterete sul sentiero, che vi porteranno a diverse caverne vulcani che formate naturalmente con delle varie eruzioni del Monte Fuji che sono veramente, veramente molto interessanti. C'è la Grotta dei Piscrelli, c'è la Grotta del Ghiaccio, anche culturalmente parlando è un luogo da visitare molto interessante. E appunto lungo questi sentieri viene più volte sconsigliato di allontanarsi dai sentieri stessi in modo da non perdermi, e viene ricordato più volte che è vietato campeggiarvi liberamente all'interno di questa foresta. Quindi, già questi ragazzi partivano col presupposto sbagliato per fare questo video. Nel nostro video non abbiamo appunto messo nessuna musica, avete sicuramente notato che è veramente molto molto silenzioso, nonostante piovesse da quanto è fitta. E la sua atmosfera e la sua fama sicuramente la rende ancora più suggestiva. Avete visto anche che noi siamo stati sempre sul sentiero, perché così viene raccomandato. Molte persone all'interno di questa foresta si sono perse, molte volontariamente, e altre meno. Non escono quindi nel totale silenzio, pensare male se si vede qualcuno che si accinge a andare oltre il sentiero e perdersi all'interno della foresta in completa solitudine. Il video integrale di Logan Paul mi ha fatto dispiacere più che disprezzo per vedere qualche ragazzi ridere e scherzare di fronte a un uomo impiccato, zoomare sulle sue mani, su ciò che aveva in tasca. È stata veramente una mancanza di rispetto e di educazione civile. Mi ha colpito l'incapacità di distaccare la realtà dal sensazionalismo di YouTube che si sono creati. Loro dovevano fare il vlog e una volta che hanno visto il cadavere, si sono messi anche a fare le reazioni. Hanno detto, oh abbiamo trovato il cadavere, riprendi, riprendi, e poi gli sono andati attaccati. A posteriori Logan Paul si è anche scusato dicendo che aveva reagito male alla situazione e non aveva capito quando era il momento di fermarsi a fare il video. E questa è un'altra cosa che non sopporto, perché non è vera. Poteva fermarsi quando ha scoperto il corpo, riprendendosi magari dopo in stanza, dicendo cos'era successo, non mostrando niente. Poteva fermarsi dall'avvicinarsi e riprendere ancora. Poteva fermarsi dal pubblicare il video, una volta aggiunto la macchina, e realizzato cos'era appena successo. Poteva fermarsi quando stava editando il video, scegliendo cosa mettere e cosa non mettere nel video da pubblicare su YouTube per fare visualizzazioni. Questa è una delle cose che mi fa infuriare il più. In un sapersi dare un limite, un senso di viacenza, per prendere più visualizzazioni e far parlare di sé. Il bello poi è che si sono messi anche davanti al corpo, a pochi metri perché erano attaccati, per chi l'ha visto lo sa, a fare un discorso contro il suicidio, contro la depressione, contro il non essere lasciati da soli, giusto per fare un discorso sentimentale. Mentre davanti a loro c'è il corpo di una persona impiccata, e pochi secondi dopo riprendono a ridere. Infatti noti le persone di quelli di Ecclo stanno ridendo. Questo è il chiaro esempio di falsità e finto moralismo che molti YouTuber vogliono fare. Ok, voglio arrivare al punto del video. Ciò che ha fatto questo YouTuber americano, Lugan Paul, è un'esclamizzazione di tutti quegli aspetti che ho colto, sia quando vado fisicamente in Giappone, e sia quando vedo dei video su YouTube di turisti e YouTuber che visitano il paese del Sollevante e non moscano assolutamente rispetto. Il sonto è, se volete visitare questo splendido paese, vi prego di comportarvi in modo rispettoso e educato, così come lo fareste nel vostro. Se ancora non vi sentite pronti da questo punto di vista, cercate di crescere un po' di più a casa vostra e dedicherete queste figuracce. Ciao!